... Io ho anche portato, se qualcuno vuole fare, un confronto con l'opera del Caravaggio che si trova ai Musei Vaticani e che abbiamo avuto qui qualche anno fa al diocesano, esattamente. Naturalmente anche qui vedete l'impostazione di questo quadro prevede che la nostra attenzione cada completamente sul corpo di Gesù, sulle piedonne, quindi sempre una lettura, ricordiamoci questa cosa fondamentale. Non sapevano leggere e scrivere, quindi solo l'immagine diventava per loro in mezzo di una trasmissione di una cosa.